«Facciamola bere!» La ragazzina gli sorrise e allietò la bestiolina che disse agli altri «Facciamola bere!» I cazzi crebbero ricchi di vigore, avevano tutti meno di vent'anni. Nella notte fremente, nascosti da una quercia, fecero bere alla ragazzina il folletto dagli occhi spiritati. Barcollava quando la portarono lontano. Al primo la ragazzina disse «Perché mi guardi con quegli occhi fissi? Non mi stringere così, che mi fai male!» Ma la bestiolina entrò a forza nella vagina stretta della ragazzina e disse «Baciami, baciami, che ti piace tanto!» «Non che mi spacchi!» urlò la ragazzina. Tutti gli altri si ammucchiarono nella sua vagina per due ore. La madre tremò quando vide come avevano ridotto la figlietta. Commento «L'individuo che si urnisce in branco abbassa la sua evoluzione a livello medio del branco e compie delle azioni che da solo non avrebbe mai compiuto. Ma è stato lui che ha scelto il branco». Grazie. 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 Grazie.